la folla ancora una volta cerca Gesù non perché hanno visto dei segni ma perché hanno mangiato di quei panni si sono saziati e un po' siamo anche noi quello di cercare la presenza di Gesù nella nostra vita perché possa darci un prodigio, un miracolo, un qualcosa che ci aiuta ad affrontare la vita però state attenti qui Gesù non sta richiamando non sta rimproverando la folla in fondo ciò che fa è sta svelando la verità del nostro cuore e alla fine lui giustamente suscita la domanda nella folla che dice ma allora cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio e lui dice questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli mi ha mandato cioè vale a dire lui dice credimi non cercare prodigi non cercare chissà quale miracolo chissà quale grande opera credimi credi in me credi la mia parola credi nel mio mistero pasquale credi che io sono morto e risorto per te ma in fondo Stefano di cui oggi noi leggiamo il racconto negli atti di apostoli perché riesci a fare questa testimonianza pastesca perché è stato toccato da Gesù perché ha creduto alla sua parola perché anziché cercare lui si è sentito cercato da Gesù Cristo che ha dato tutto se stesso a tal punto da fare cose straordinarie noi non siamo molto diversi da Stefano se crediamo veramente concretamente all'amore di Dio rivelato in Gesù Cristo buon amissimo